In occasione del terzo concorso dedicato all'olio extravergine d'oliva tenutosi a Perito il 4 maggio 2019 abbiamo avuto ai nostri microfoni il sindaco di Perito, Carlo Cirillo, il quale ci ha parlato degli aggiornamenti riguardanti il progetto denominato Antico Stato di Gioi, progetto che vede il comune di Gioi Capofila e al quale hanno aderito quelli di Moio della Civitella, Perito, Orria e Salento. L'obiettivo di questo progetto, afferma il sindaco, è quello di valorizzare il patrimonio fondiario pubblico a destinazione agrosilbio-pastorale dei comuni che hanno aderito alla progettazione e che lo stanno portando avanti. Un modello di sviluppo che è fondamentale per dare un avvenire ai tanti giovani che hanno scelto di restare nei nostri paesi e che può essere da volano per l'intera economia comprensoriale. L'amico sindaco di Orria, l'ingegnere Mauro Inverso, parlava dell'accordo di programma dell'Antico Stato di Gioi, nel senso che cinque comuni dell'Antico Stato di Gioi, quindi Gioi stesso, Moio della Civitella, Orria, Salento e Perito, abbiamo già stirato nell'anno 1996 un primo accordo di programma cercando di ricostituire questo accordo politico tra le cinque comunità che in comune hanno una montagna che si chiama Montagna Serra, che sono circa 1000 ettari di territorio pubblico al quale faceva riferimento l'amico Nicolangelo Marsicani, nel senso che anticamente questi beni di pubblica utilità sono stati suddivisi in parte per i comuni, per l'appunto e in parte per i beni della Chiesa.